Buonasera gli amici di Nuovola TV, effettivamente questa quarantena sta mettendo un po' tutti a dura prova ed ha cambiato radicalmente le nostre abitudini. Dovendo rimanere tutti chiusi in casa, effettivamente è venuta meno la possibilità in grossa parte di poterci muovere e spesso la noia o in alcuni casi anche un po' di stress emotivo possono diventare dei fattori di causa di un aumento del senso di fame. Inoltre come è possibile vedere sui social impazzano le challenge culinarie e questo ci fa capire che spesso trascorrere del tempo in cucina diventa anche un modo per ammazzare il tempo ed impiegare i bambini in delle attività. Bisogna però fare attenzione perché questo periodo che probabilmente sta durando un po' più di quanto c'eravamo immaginati all'inizio potrebbe poi farci ritrovare con qualche chilo di troppo. Allora cerchiamo di dare qualche consiglio su come poter gestire l'alimentazione in questa fase. Una strategia utile potrebbe essere quella di fare la spesa intelligente ovvero evitare di comprare e quindi poi di avere in casa troppi cibi che rischierebbero facilmente di farci cadere in tentazione. Un secondo consiglio potrebbe essere quello di organizzare un planning di attività di modo in parte da scandire comunque una routine e in parte aiutarci a vivere questo periodo in maniera costruttiva ed impiegare il tempo magari anche fuori dalla cucina. Un terzo consiglio è quello di gestire i pasti della settimana in maniera al più leggera possibile quindi cercando di fare attenzione a non esagerare con i carboidrati e con i grassi e magari rilasciando uno o due pasti liberi a settimana senza perdere le vecchie tradizioni come ad esempio la pizza del sabato sera oppure il pasto domenicale un pochino più abbondante. E ultimo ma non meno importante è il discorso dell'attività fisica non è assolutamente vero che in casa non si può fare attività fisica e ci sono anche tanti personal trainer locali che stanno pubblicando sulle loro pagine degli allenamenti casalinghi ai quali si potrebbe prendere qualche ispirazione oppure ci sono anche dei altri canali, primi tra tutti YouTube dove possiamo andare a ricercare l'allenamento più adatto ai nostri gusti e alla nostra capacità. Per cui ricordatevi che in questo periodo è fondamentale proteggersi dal coronavirus ma che la nostra salute passa comunque sempre anche attraverso l'alimentazione.